Sandro Bondi, ministro dei beni culturali, dalle dimissioni. E lo scrive in una lettera inviata al giornale. Una decisione ormai presa dal ministro, che ha già informato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Una piena e consapevole scelta di vita maturata in secondo luogo dalle difficoltà incontrate. Bondi, ammette di aver fatto degli errori, ma sostiene di aver realizzato reforme importanti e una linea alternativa alla politica culturale della sinistra. Non si è sentito sostenuto dalla sua stessa maggioranza di governo, e dai colleghi che reputava necessari, per imprimere una svolta nel modo di concepire stato e cultura. Aggiunge, inoltre, di voler dedicare più tempo alla famiglia. Ma non intende lasciare le fila del PDL. Vuole comunque ricoprire il suo ruolo di senatore e non allontanarsi da Berlusconi per cambiare il paese. Grazie a tutti.